33 anni, arruato nell'esercito del 97, sposato, un figlio di 8 anni, già 8 missioni di pace, le chiamano così, tra Kosovo, Iraq ed Afghanistan. E qui, tra la polvere del Gulistan, un posto difficile persino da pensare, che Michele Silvestri, sergente maggiore della brigata Caribaldi, è stato ucciso dai talebani in un attacco a colpi di mortaio. E in questo palazzo di Monte di Procida, un delizioso paesino della costa flegrea, che abitano la moglie Nunzia, il suo bambino e i genitori. Quando ieri pomeriggio hanno visto arrivare due auto con militari a bordo, hanno capito subito che era accaduto qualcosa di irreparabile a loro Michele. Tutta Monte di Procida è stata duramente colpita, una famiglia tipica, semplice, e lui credeva nell'esercito, io me lo ricordo da ragazzo, che ha sempre voluto fare il militare, e devo dire che oggi si immola per la patria e per la libertà. A Monte di Procida si conoscono un po' tutti e tutti ricordano Michele così. Un gran pilastro abbiamo perso, un grande amico vero. È un bravo ragazzo, purtroppo gli spieghi a tutti. Il resto di questa domenica triste per la piccola comunità di provincia è storia nota e già vista in altre occasioni simili. Le interminabili processioni di amici ed autorità a casa dei familiari dell'ultimo militare ucciso, il dolore, i funerali e poi l'oblio, fino al prossimo militare morto in una missione di pace, dove c'è però un nemico che ti fa la guerra e ti uccide. Paolo Chiariello, Sky TG24, Monte di Procida, Napoli.